Che cos'è Tenerife? Oggi si mangia. Ecco tu qua, con una bella inaugurazione di un locale Dove siamo? La mia Toscana. Si chiama la mia Toscana, fantastico. E infatti è il migliore strano di Los Cristianos. Bene, che abbiamo qua? Abbiamo qui la nostra mortadella, la mitica mortadella. E' questo? Pan focaccia. Ne prendo uno. Provo. Ma chi è l'artefice di tutto questo? Ti accompagna l'artefice del cuoco. Andiamo a vedere l'artefice di questo. Benissimo. Perché cos'è Tenerife? Facciamo anche questo. E' tutto questo. E' qui Nare. E' la toscana dal cuciniero. Dal cuciniero che è? E' permesso? Ciao, io sono Francesco Gallori. E perché cos'è Tenerife? Sto filmando questa inaugurazione. Tu sei l'artefice di queste cose? Anche. Complimenti. Grazie. Quando hai un pochino di tempo, l'intervestiamo. Vale, grazie. Che cosa sono questi? Oh, fantastico. Mangio, mangio, mangio. Con la mortadella. Questo con la mortadella. Adesso lo vado a prendere. Proseguendo, una delle cose che mi piace di più è pane e mortadella. Sono fantastici perché il pane è caldo, la mortadella è freschissima. E' molto buono. Ma ci vediamo tra un pochino. Benissimo, grazie. Guarda che onore. Primo giorno. Anzi, l'ante del giorno. Antigiorno. Grazie. Salute. Ma guarda, fantastico. I nostri amici mi hanno portato un pochino di cose da assaggiare. Ciao. Senti, come è il tuo nome? Giuseppe. 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 Ci avevamo questa bottiglia di vino che dopo sale. La peremo dopo. Allora, di fronte al mio negozio di valutiere ha aperto la mia Toscana. La mia Toscana. La mia Toscana è... la parola già dice, penso tu, dice tutto per chi, diciamo, sa cos'è la Toscana in Italia. Però, oltre la Toscana, qui dobbiamo considerare che abbiamo la svariata tipo di clientela che ci gira intorno, dove però la nostra cucina ha sempre colpito in cuore la passione di anche queste persone che non sono italiane. Allora, ad avvicinarsi ai nostri sapori, alla nostra semplicità, ai nostri piatti poveri che la nostra cultura ci ha tramandato a sedere. Certo, proprio a creare questo mixere del luogo di Tenerife, che è un po' particolare per mangiare. Certo, bisogna accontentare la clientela che ci gira intorno. Naturalmente, se venite qualche italiano, roba ardente, sicuro. Quella è la base di tutto. Ad esempio, sono italiano e voglio la pasta ardente. La nostra forza sarà anche questo. C'è un messaggio tra sala e cucina che quando un cliente è italiano, sappiamo che a noi italiani la pasta ci cuoca, ci cuoca in una certa maniera. Bene. Quindi viene accusato l'occhio di riguardo. Anche la montadella è bolla. Questa è italiana, credo. Questa è italiana. I prodotti che abbiamo qui, cerchiamo nella nostra diversa economia di avere però una qualità. Quindi con i tempi oggi non abbiamo problemi per stessaggi, inerci, ora, perché non smuoviamo malicieli. Allora, bisogna solamente provare. Dove siamo precisamente noi? Noi siamo all'Oscristiano, a Sevilla della Paloma. Ora, il numero civico, scusate. Dovrebbe essere il 4, perché io stavo al 5 di fronte. Escono i 4, per le perse. E niente, con la nostra semplicità vi aspettiamo un numero. Perfetto, vi aspetto, chiamateci, organizziamo una bella cena qui al ristorante La Mia Toscana. Perfetto, ciao, per Che Cosa è Tenerese, Francesco Gallori, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.